Mattia Gianvincenzi, possiamo forse considerarlo l'MVP di questa finale del Memorial Roberto Mosca? Una buonissima prestazione soprattutto nel secondo tempo contro il Visnova? Allora, credo che terzo e quarto quarto abbiamo giocato da vera squadra, abbiamo difeso alla grande e abbiamo permesso solamente, credo, una ventina di punti tra il terzo e il quarto quarto. Stiamo cominciando ad assimilare un pochetto la mentalità del coach perché è quello il vero cambiamento di quest'anno. Qual è stato il più grande cambiamento fino ad ora per quello che hai visto di coach e bondi? Beh, diciamo che prima lui parla di pallacanestro civita vecchiese dove comunque brillavano le individualità. Adesso invece nel suo modo di giocare tutti e cinque devono essere coinvolti nell'azione sia offensivamente ma soprattutto difensivamente. La chiave del nostro gioco comunque è la difesa e oggi si è visto comunque. Non c'è il rischio che andate un po' troppo sugli allori dopo questo successo? No, assolutamente no. Il coach è... Cioè, appena cerchiamo di spiccare il volo ci abbassa subito. E così arrabbiato come l'abbiamo visto durante la partita anche quando c'è una decisione a favore della Stemar 90? Sempre, sempre. È molto critico, però fa bene perché comunque dobbiamo sempre migliorare. Come la vedi questa C-Gold? È la prima volta che giocare in questa categoria. Come sarà questo assaggio? Eh, non lo so perché non ho mai partecipato a questo campionato. Tuttavia ci stiamo preparando molto bene, ci alleniamo quasi tutti i giorni, anche la mattina. Quindi dal punto di vista atletico e tecnico diciamo che stiamo dando il massimo. Vediamo quello che succede. Grazie a tutti.